eccolo se vado mai ragazzi e rieco sui guanti carichi pimpanti arzilli nel canale un altro quindi insieme un buon pomeriggio partiamo subito con le notizie che stanno arrivando in questo momento allora come avete visto tutti riportato ormai ormai ovunque anche da sport media se da correre dello sport antonio conte sarà il nuovo allenatore del napoli con laurentis comunque in disaccordo a livello caratteriale ma che tramite manna è riuscito a trovare l'intesa col tecnico leccese tant'è che come abbiamo detto manna è pronto a fare una campagna acquisti mirata per il tecnico obiettivamente conta chiesto soltanto di trattenere i capisaldi della formazione quindi di lorenzo lobotka varaschelia insomma i giocatori più rappresentativi e che in qualche modo possono tenere il terrore della qualità della rosa alta e ovviamente potrebbe anche arrivare un tesoretto da parte di osimen che che vale veramente tanto napoli deve comunque cercare di rientrare a livello di soldi perché non parteciperà alla champions league quindi è chiaro che serviranno appunto dei sacrifici quindi niente juventus come abbiamo già detto già da un po di mesi e ovviamente mentre lui andrà al napoli con la richiesta di chiesa con la richiesta di portare anche lukaku e vedremo quali altri giocatori per ambire lo scudetto con ampi bonus dovesse riuscirci penso addirittura 3 milioni per arrivare in champions league quindi tra le prime 4 barra 5 secondo del ranking e poi 2 milioni di bonus extra anche se dovesse vincere lo scudetto quindi è chiaro che il dado è tratto motta dal canto suo sarà l'allenatore della juventus con ogni probabilità lo diamo sempre al 99,9 fino alla firma ma ovviamente manca soltanto l'annuncio e l'ufficialità come anche rivelato già luca di marzio e in questo momento non è la priorità quella di far firmare il tecnico annunciarlo in men che non si dica perché come sappiamo il ritiro estivo comincerà il 10 luglio mentre il raduno proprio nei primi giorni di luglio e poi la juventus andrà proprio con l'allenatore facendo tappa nella sede dell'adidas in germania proprio per fare diciamo l'ultimo ritocco della preparazione proprio con lo staff che si porterà dietro il tiago motta da bologna e quindi diciamo che c'è una programmazione bella certa e bella sicura fatta da giuntoli da tutto lo staff con tiago motta come abbiamo detto in questo momento perché non è la priorità far l'annuncio di tiago motta perché l'allenatore oriundo in questo momento si sta godendo il meritato riposo facendo un viaggio in moto con la moglie per andare a trovare le tre figlie e in portogallo quindi farà di bel una bella escursione fino andando in portogallo e a lisbona firmerà il suo contratto quindi come ho detto ha già le documentazioni le carte no per firmare questo triennale 2 più 1 quello leggerà la juventus vuole un attimo staccare la spina ricaricare le pile dopo una stagione straordinaria ma anche carica no di adrenalina e poi una volta fatta la sua vacanza è tornato in bello stile a torino andrà la continassa proprio per cominciare la stagione quindi ecco come abbiamo detto non c'è più nulla da nascondere tiago motta ha espresso l'intenzione chiara e tonda di unirsi alla juventus e come ho detto è una scelta da un lato molto coraggiosa da parte di giuntoli perché crea uno stacco enorme col passato anche livello di mentalità però allo stesso tempo anche una scelta che secondo me potrà essere ripagata in futuro come abbiamo visto non ci saranno grandissimi acquisti saranno ben mirati si punterà anche a confermare gli uomini di punta l'abbiamo detto danilo bremer si cercherà di trattenere di alò vedremo se potrà entrare in qualche contropartita tecnica oppure rimanere rugani verrà rinnovato così come gatti arriverà probabilmente calafiore come abbiamo detto di gregorio in porta con l'uscita di scesni e la permanenza di perin con pissoglio che resterà come terzo portiere e poi costici e il link anch'essi potrebbero essere sacrificati per monetizzare vedremo cosa succederà costici in primis anche per l'età e per il rendimento mentre il link ci penserei due volte perché comunque potrà essere provato durante la preparazione atletica e il raduno ecco locatelli è stato messo al centro appunto del progetto fagioli anch'esso capisaldo colonna del centrocampo verranno valutati i barbieri di rientro dal pisa barenecea ovviamente caio george sulle anch'esso che potrebbe entrare come abbiamo detto in una contropartita tecnica per cubainers così come ausen e cambiaso anche lui uomo inamovibile uno dei tanti no che è stato veramente rinvigorito dalla cura tiago motta già dal bologna e ecco quindi insomma diciamo che si stanno mettendo a posto anche vari tasselli miretti nicolussi verranno valutati perché anche quelli non sono sicuri al cento per cento di rimanere nel roster della juventus il dits intoccabile blauic pure verrà valutato ken che potrebbe andare in uscita vedremo dove in spagna in premier in ligand vedremo dove milic potrebbe a sorpresa essere confermato perché è un giocatore molto tecnico e che potrebbe assorbire anche i moduli di tiago motta e qui ecco poi rimane questo rebus di chiesa come vi ho detto non ci sono garanzie certezze che appunto sia già stato scartato perché come avete visto sono soltanto rumors giornalistici però era doveroso comunque esprimere l'opinione da parte mia e poi far trapelare quello che hanno detto certi giornalisti ma soprattutto penso zazzaroni e pochi altri di sicuro i giornalisti di stampo juventino ci vanno molto quei piedi di piombo in questa situazione perché come abbiamo detto finché sono voci di corridoio oppure esagerazioni giornalistiche per fare una cliccata in più ovviamente dobbiamo come ho detto discernere bene e in qualche modo filtrare le notizie al meglio quindi in questo momento ancora non si sa quali saranno gli uomini definitivi per comporre la rosa futura di tiago motta come abbiamo detto l'oriundo non ha grosse pretese non ha fatto dei nomi imprescindibili di nomi che lui vuole assolutamente non ha obbligato giuntogli a fare un mercato faronico però ha detto che gli servirebbero questi 4 5 elementi per come ho detto infoltire la rosa e come ho detto cercare in tutti i modi di alzare il tasso tecnico e il livello diciamo del pensiero dell'accume tattico dei giocatori perché il suo calcio è molto particolare come abbiamo detto molto meno fisico rispetto a quello dell'ex guida tecnica e più un calcio veloce di tocchi di prima partendo dalla costruzione dal basso di grande movimento anche senza palla come abbiamo detto cercando di allenare i giocatori nel capire dove mettersi in campo nelle zone giuste in ogni momento della partita in ogni fase di gioco e infatti ci sono già dei giocatori in essere no in questa rosa dell'eventus tra giovani e senior che sono già predisposti per assorbire i suoi tatticismi quindi è chiaro che lì non andrà a toccare nulla quindi ecco perché dico molti dovranno andare via perché non sono ritenuti donne a stare all'eventus e molti arriveranno chiaramente come ho detto non ci si aspetta il pagamento di cartellini di alto livello quindi scordiamoci che l'eventus possa in qualche modo buttare sul piatto 80 milioni come fece per blaovic 85 come fece per the lift che metta 60 70 milioni per cub miners di sana pianta facendo uscire dalla cassa liquidità lo potrebbe fare soltanto con quei quali di cartellini aggiungendo delle contropartite tecniche ecco perché in questo momento giuntoli e poi i nuovi dell'area sportiva stanno lavorando in maniera molto maniacale per inserire contropartite tecniche abbassando il livello appunto del valore dei cartelli dei giocatori interessati che abbiamo ditemi la vostra bel pollicione alto alto iscrivetevi al canale e attivate la campanella a presto come sempre forza io fino alla fine